E' la cosa più importante e la cosa più bella che inorgoglisce un allenatore come me. Anche questa partita non hanno mai mollato, hanno sofferto quando ce l'ha soffrita, hanno stretto i denti, hanno corso e alla fine credo che il pareggio sia meritato. Noi abbiamo provato a dare continuità al lavoro dello scorso anno, ma dare continuità al lavoro dello scorso anno significa quello che fanno poi tutte le squadre. Lavorare duro in settimana, cercare di tenere alta la concentrazione, di tenere alta la condizione fisica, cercando di fare quello che poi si deve provare a fare la domenica e il merito è dei ragazzi perché, ripeto, noi abbiamo cominciato bene in Coppa Italia, siamo cresciuti piano piano, tutti quanti avevamo dubbi su quella che potrebbe essere stata la nostra parte in questo campionato, perché è un campionato bello e difficile, abbiamo visto le squadre che sono andate in Serie A, abbiamo visto quelle che sono retrocesse, tutte le squadre che sulla carta, anche quelle retrocesse, erano partite per altri obiettivi, quindi noi con grande umiltà, con grande lavoro, ci siamo ritagliati questa possibilità e come abbiamo fatto fino ad oggi ce la giocheremo fino in fondo. Non ci mancherebbe altro, noi non abbiamo fatto niente, non è come se fossimo alla prima giornata, c'è da giocare un'altra e in quest'altra bisogna fare per forza il risultato e quando devi fare per forza il risultato c'è sempre davanti un'altra squadra, quindi ci mancherebbe. La cosa che più per me è importante è vedere gli occhi dei miei ragazzi, vedere quello che ogni giorno, guardarli in faccia, vedere le loro risposte, io so che daranno tutto quello che hanno e qualcosa in più per provare a compiere un'impresa, a realizzare un sogno.